Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca. Un incidente questa mattina poco prima di mezzogiorno sulla strada statale 73 all'altezza dell'incrocio tra via Cadei Frati e via Padre Teodosio. Coinvolte un'auto guidata da un retino di 78 anni e una moto condotta da un 29enne residente a Civitella. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo che hanno effettuato i rilievi di legge e un'ambulanza. Il motociclista è stato trasportato all'ospedale Lescotte di Siena. Per lui, sempre rimasto cosciente, si sospetta un trauma facciale e lesioni agli arti inferiori. Ci sono stati disagi al traffico. E adesso torniamo in via Filzi perché anche l'ASL interviene sullo stato del cantiere abbandonato di via Fabio Filzi. Vediamo. I tecnici dell'ASL e del servizio igiene pubblica nel cantiere abbandonato di via Fabio Filzi. I funzionari hanno infatti verificato lo stato dei luoghi e scritto al comune di Arezzo perché il privato intervenga. Tutto era partito da un esposto presentato dai residenti ormai esasperati a comune e azienda sanitaria, denunciando una situazione in continuo peggioramento. Qui, infatti, sarebbe dovuta sorgere la nuova caserma della Polizia Municipale, ma il leasing incostruendosi era inceppato, portando di fatto al fermo dei lavori ormai da mesi e all'ammaloramento della struttura. I tecnici ASL hanno effettuato un sopralluogo per prendere visione diretta dello stato dei luoghi. Erano stati proprio i cittadini a segnalare in particolar modo le condizioni delle fondamenta della nuova struttura, lavori non portati avanti che di fatto hanno creato vasche piene d'acqua, dove soprattutto con la bella stagione potrebbero proliferare larve e insetti. All'interno si sono create delle piscine di acqua di notevole dimensioni e sono estremamente pericolose anche con l'approssimarsi della stagione estiva. Quindi c'è l'allarme dengue direttamente dalla regione toscana. Siamo vicini a delle scuole, siamo vicini a delle situazioni non più sostenibili. I funzionari dopo il sopralluogo hanno scritto al comune di Arezzo perché predisponga il ripristino dei luoghi. Si tratta infatti di una proprietà privata. L'amministrazione attende adesso che una nuova impresa costruttrice subentri a quella messa fuori dall'amministrazione per inadempienza in un sistema di leasing costruendo, come affermato dall'assessore Marco Sacchetti, ai microfoni di Radio Fly. Siamo vicini alla sottoscrizione dell'atto per la sostituzione in corso d'opera dell'impresa esecutrice della caserma e quindi se tutto va bene diciamo che non voglio dare una data precisa ma insomma a breve, non molto a breve, ripartiranno lavori, verrà rimessa in sicurezza il cantiere, c'è stata ovviamente tutta una polemia giusta dei cittadini. L'hai vista quella dell'acqua sì Marco? Sì l'ho vista, c'è stata una nota dell'ASL, abbiamo fatto presente alla proprietà che è intenzione nostra di mettere in ordinanza, siccome la proprietà è il soggetto che poi ci ha proposto la sostituzione in corso d'opera dell'impresa, ha detto che a breve l'impresa interverrà per mettere in sicurezza il cantiere e poco dopo ripartiranno i lavori con previsione di 11 mesi. E adesso parliamo della Fiera Antiquaria di Arezzo che è tornata in questo fine settimana baciato dal bel tempo, le nostre telecamere sono andate a dare un'occhiata tra i banchi, c'era per noi Chiara Sadotti. C'è il sole, c'è i turisti, sta andando abbastanza bene, speriamo che vada meglio. Bene c'è il sole, oggi c'è il sole, fortunatamente. Un'edizione primaverile baciata dal sole, quella di aprile della Fiera Antiquaria di Arezzo. Baciata dal sole, sì, senza dubbio, ma soprattutto baciata da una presenza cospicola di espositori, abbiamo 232 espositori, pochissimi assenti, nonostante qualche concomitanza che comunque, come dire, ci gioca contro, una bellissima fiera, pochissimi posti vuoti, siamo arrivati quasi a Piazza della Padia, abbiamo quasi sfatato questo mito, quindi siamo molto contenti. Abbiamo proprio scelto di venire ad Arezzo perché sapevamo che c'era il mercato, ma anche perché ci mancava nelle nostre gite, poi sempre la Toscana è sempre molto bella. Abbiamo anche un'ottima percentuale di occupazione degli alberghi, abbiamo molti stranieri, molti stranieri, ma già da qualche giorno, quindi si prospetta un bellissimo weekend. Tra i banchi degli espositori sia turisti che retini appassionati o più semplicemente curiosi. Gli stranieri sono molto molto curiosi di tutto ciò che è made in Italy, quindi dalla piccola oggettistica, i quadri, le ceramiche, tutto ciò che rappresenta l'Italia. C'è una forte componente cinese e dell'estremo oriente giapponese e anche indiana. Di noi, del mercato nostro interno, piacciono le cose un po' più vecchiotte, un po' più antiche, c'è il gusto di andare alla scoperta, di fare la truvaio. Un po' di tutto, oggetti, quadri, mobili, si devono ritare delle case cose che hanno comprato qua. Gli turisti e stranieri speriamo che acquistino. Di solito si lavora bene. Tra le collaterali di questa edizione della Fiera Antiquaria, l'apertura domenica 7 aprile delle porte del Museo di Porta Santa Andrea. Arricchisce il programma di questo fine settimana, ripeto, già con la Fiera è un pezzo avanti perché la Fiera è un asset, ripeto, imprescindibile per questa città e per quanto riguarda l'afflusso di presenze in città. Quindi bene, molto contenti, un ottimo lavoro, evidentemente la promozione che continuiamo in perterriti sulla Fiera evidentemente paga. E intanto nella chiesa di Sant'Ignazio è tornata Arezzo Selezione Vintage. Vediamo. Un tuffo nel fascino del vintage in una suggestiva cornice, la chiesa di Sant'Ignazio, un vero e proprio gioiello ancora poco conosciuto dalla città di Arezzo. È così tornato Arezzo Selezione Vintage, un viaggio del tempo attraverso abiti, oggetti e atmosfere di un'epoca passata. Siamo riusciti attraverso le istituzioni e le fondazioni ad avere questo nuovo spazio che è la Sala Sant'Ignazio, che è un'ex chiesa sconsacrata, molto affascinante all'interno, tutto bianco e stucchi e parti dorate. Devo dire che anche le cose vintage ci stanno benissimo, come appare dalle immagini sicuramente. Questa nuova sfida è l'obiettivo di portare la gente dalla fiera qui, che il passo è abbastanza breve, però insomma dobbiamo farlo. Quanti espositori da dove vengono? Sono una ventina, vengono da Firenze, da Arezzo, dalle zone limitrofe, qualcuno da Siena, da Roma, eccetera. Uno shopping diverso dall'ordinario, ma sempre più ricercato. Perché è un modo per rimettere in circolo degli oggetti, delle fantasie, delle suggestioni del passato anche. La qualità c'è sicuramente, le cose di una trentina di anni fa sono fatte in un certo modo, magari con delle tecnologie diverse, però i materiali ci sono, insomma. E adesso passiamo alla pagina politica, perché l'europarlamentare Susanna Ceccardi della Lega oggi è arrivata ad Arezzo per lanciare la propria candidatura per essere riconfermata a Bruxelles. Nell'occasione parla anche della recente candidatura di Ghinelli all'Europei per Forza Italia. Diciamo che ogni scelta di candidatura è legittima, Alessandro Ghinelli sta facendo il sindaco, deve ancora finire il suo mandato, ma si candida per Forza Italia, quindi è un partito differente. Io mi candido per la Lega, in bocca al lupo a tutti gli avversari o alleati. Io faccio la mia corsa in coerenza, sono uscente al Parlamento europeo, mi ricandido al Parlamento europeo. Così l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, oggi ad Arezzo per la partenza della sua campagna elettorale per le prossime elezioni europee, si esprime sulla notizia della candidatura del sindaco di Arezzo con Forza Italia. Le nostre candidature sono due candidature assolutamente diverse, vinca il migliore. Le sue storiche battaglie le condivide oggi con gli aretini che si fermano a gazebo allestito lungo il mercato di Viagiotto. Molte si fermano a parlare con me al gazebo, a conoscermi e sposano in molti casi le mie battaglie, soprattutto quelle europee a difesa dei confini, contro l'immigrazione di massa, contro un'islamizzazione che purtroppo è sempre più crescente nel nostro paese. Ma sono anche tanti i temi locali, quindi l'attenzione alla sanità del territorio, l'attenzione ai più anziani, le attenzioni alle giovani coppie, molti i temi che mi vengono sottoposti e che in Europa in questi anni ho portato all'attenzione della Commissione europea. Tra i problemi sollevati dai cittadini che si fermano al gazebo c'è quello della sicurezza, molto sentito anche nella città di Arezzo, nonostante i nove anni di governo del centrodestra. È un problema di molte città che i sindaci si trovano ad affrontare. Io ho fatto il sindaco e i sindaci hanno potere di ordinanza rispetto a certe situazioni. Di certo è che con questa immigrazione crescente e una criminalità che spesso non trova la via giudiziaria e la finalizzazione della via giudiziaria si ritrova poi per strada. I sindaci rimangono impotenti perché molto spesso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che non condannano spacciatori, criminali, li ritroviamo per le nostre strade. Quindi sicuramente c'è da agire sulla base nazionale delle leggi e di una razionalizzazione della giustizia, ma anche a livello europeo per bloccare finalmente questi flussi migratori incontrollabili che arrivano nei paesi di primo arrivo e quindi l'Italia. L'Europa in questi anni ha lavorato male, la maggioranza della Commissione europea sulla quale noi siamo all'opposizione ha varato dei provvedimenti che in realtà favoriscono l'immigrazione clandestina e quindi su questo noi ci opponiamo e nella prossima Commissione europea speriamo di avere la maggioranza di centrodestra europeo per cambiare finalmente questi provvedimenti dannosi. E adesso spostiamoci in Valdichiana. La giunta comunale di Castiglione Fiorentino ha stanziato oltre 150 mila euro per ridurre la tassa annuale sulla gestione dei rifiuti urbani alle famiglie con ISEI inferiore a 20 mila euro. Questa settimana è stato pubblicato sul sito del Comune l'avviso per la presentazione delle domande. La riduzione è riconosciuta fino ad esaurimento delle risorse a disposizione secondo un'apposita gradatoria. Le domande possono essere presentate fino al 15 di maggio. E adesso parliamo di una segnalazione che ci arriva da Quarata. Alcuni cittadini hanno inviato alla nostra redazione alcune fotografie e video che lamentano parcheggi selvaggi nella zona vicina al campo sportivo, nonostante l'installazione anche di paletti dissuasori per la sosta. Chiedono dunque ai cittadini maggiori controlli e un'attenzione alle esigenze dei residenti. E la parola d'ordine è sorveglianza attiva. Il Consorzio di Bonifica 2 Altovaldarno ha trovato nella SD Canottieri Comunali di Firenze un valido alleato contro il rischio idrogeologico. Considerata la difficoltà di raggiungere tutti i punti dell'asta fluviale dell'Arno a piedi o con mezzi meccanici, già lo scorso anno il Consorzio ha sperimentato con successo l'osservazione del fiume Arno dall'acqua in collaborazione con l'associazione T-Rafting. Questo ha permesso di individuare pericolosi accumuli di legname in prossimità di ponti e altre criticità tempestivamente risolte dal Consorzio. Quest'anno l'ente ha deciso di completare l'operazione di monitoraggio e in accordo con i canottieri comunali di Firenze che per celebrare il loro novantesimo anniversario hanno programmato una discesa del fiume dalla sorgente alla foce e ha messo a punto anche un check-up completo del tratto che ricade nel comprensorio Altovaldarno. È stata pianificata a tappe un'osservazione attenta del corso d'acqua partendo dalle foreste casentinesi fino a valle. Obiettivo valutare la salute del fiume individuando anche eventuali problematiche difficili da diagnosticare via terra. Al termine della navigazione è stato presentato un breve report sulle condizioni ecologiche ambientali e idrauliche dell'Arno. I risultati sono incoraggianti, l'Arno qui sta abbastanza bene, poche plastiche, buona cura delle sponde, acque piuttosto pulite, ambienti incantevoli sono le valutazioni che emergono dal monitoraggio. E adesso passiamo alla pagina sportiva. L'Amen BC Servizi torna in campo contro il College Basket Borgo Manero. La squadra di coach evangelisti ospita domani alle 18 i piemontesi. Dopo due trasferte consecutive l'Amen BC Servizi Arezzo torna a giocare davanti al pubblico amico del Palace Portestra domenica 7 aprile alle 18, avversario di turno della gara il College Basket Borgo Manero che nella classifica di questa seconda fase precede gli amaranto di due lunghezze. I piemontesi attorno al nucleo del gruppo Under 19, eccellenza che si è qualificato per le finali nazionali, possono contare sull'esperienza di Daniele Benzoni che viaggia ad oltre 18 punti realizzati a partita. Il match sarà anche l'occasione per il pubblico aretino di poter vedere in campo Francesco Ferrari, classe 2005, capocannoniere della squadra e premiato come miglior giocatore della finale della Next Gen. Da sottolineare anche come College Borgo Manero abbia vinto il Gita di Lissone, uno dei tornei più importanti Under 19 a livello europeo dove ha fatto incetta di riconoscimenti. Per l'Amen BC Servizi si prospetta dunque una sfida dove non saranno possibili cali di tensione per cercare di bissare il successo in trasferta maturato nella gara di andata. Per tutti i sostenitori amaranto l'appuntamento è le 18 sui gradoni del Palace Portestra. Per quanto riguarda invece il settore giovanile amaranto comincia con il piede giusto la seconda fase dell'Under 14 di Coach Vezosi che dopo il terzo posto al torneo Garbosi di Varese ha battuto giovedì scorso Calcinaia all'esordio nella post-season che qualifica alle finali regionali. E chiudiamo con una notizia di Atletica. Si sono tenuti ieri allo stadio di Atletica Enzo Tenti di Arezzo le gare provinciali di Atletica Leggera organizzate dall'Ufficio Educazione Fisica del Provveditorato agli Studi di Arezzo. Nella categoria Cadetti e Cadette studenti di seconda e terza media hanno partecipato per l'IC Cesalpino due squadre formate da 14 atleti. La squadra femminile dell'IC Cesalpino ottenendo un oro assoluto gareggerà di diritto al prossimo martedì 16 aprile a Livorno alle gare della fase regionale. A Livorno accedono anche due atleti della squadra maschile vittoriosi nelle gare individuali di 80 metri piani e getto del peso. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Vi ringrazio come di consueto per l'attenzione e vi auguro una buona serata.